Bene, buonasera a tutti, io allora inizierei anche se alcuni colleghi ci stanno per raggiungere perché sono impegnati o in votazioni o in lavori di commissione, io mi chiamo Andrea Romano, sono deputato del Partito Democratico e mi limito ad alcune parole di introduzione a questa che è in realtà la presentazione di un rapporto redatto dalla Federazione Italiana a Diritti Umani e dalla Open Dialogue Foundation che sono entrambe qui rappresentate da Eleonora Mongelli che è alla mia sinistra e da Massimo Gordini che è in collegamento, tra poco presenterò più estesamente i presenti, io mi limito a dire queste poche parole, intanto la tragedia dell'aggressione di Putin all'Ucraina come sapete è fatta di guerra, violenza, violazione del diritto internazionale, ricatti economici ma è fatta anche di disinformazione, o c'è dello stravolgimento palese pianificato e conclamato dei fatti, da una parte i fatti dall'altra la disinformazione, perché la disinformazione è uno strumento di politica estera e di politica militare dei regimi di Putin da anni, è stato teorizzato come tale, pensiamo per esempio a Gerasimov che è il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe come sapete che ha dedicato molti sforzi teorici per l'appunto all'elaborazione della disinformazione come strumento politico e militare ed è uno strumento che come tale è stato usato massicciamente dal regime di Putin ed è stato finanziato massicciamente dal regime di Putin e non è un caso che da molto tempo l'attenzione di molte democrazie europee sia concentrata proprio sulla disinformazione promossa dal regime di Putin come strumento di intossicazione del dibattito pubblico e quindi della democrazia europea. Pensiamo alle inchieste, ai lavori di indagini che sono stati fatti dal Parlamento europeo e da alcuni parlamenti di paesi democratici europei, fra cui la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna, ma però partirei da un fatto concreto, un fatto tragico e concreto avvenuto ieri e come esempio di disinformazione sappiamo tutti cosa è accaduto a Kremenciuk, una cittadina vicino a Poltava, a 500 chilometri dal Donbass, dal fronte orientale. Kremenciuk, come sappiamo, due missili russi hanno colpito e distrutto un grande centro commerciale dove erano presenti centinaia di civili, uccidendone all'incirca una ventina, altrettanti sono dispersi. Ecco, questi sono i fatti, quanto è accaduto ieri, a cui tutto il mondo ha assistito. Se i fatti sono questi, la disinformazione del regime di Putin è già oggi attiva, mi viene da dire. Ieri sera hanno provato a dire che si trattava di una messa in scena un po' sul modello di Buccia, cioè sul modello di quanto secondo loro è accaduto a Buccia. Oggi è uscita la versione ufficiale del regime di Putin, secondo il quale i missili del regime di Putin non hanno colpito un centro commerciale, ma hanno colpito un deposito militare, secondo loro. È un esempio che risale a queste ore che ci rende palesemente l'idea di cosa vuol dire da una parte la contraposizione tra i fatti, appunto, e la disinformazione. E tra l'altro quanto è accaduto a Kremanciuk che è la replica esatta di quanto è già accaduto a Buccia, a Kramatorsk, a Mariupol e in altri luoghi dove sono stati gli eccidi di civili ad opera delle truppe di invasione russa e dove appunto la disinformazione russa ha raccontato tutto il contrario dei fatti. Perché parlare oggi di disinformazione? Perché parlarne in Parlamento? Perché il rapporto della FIDU e dell'Open Dialogue ci racconta nel dettaglio cosa è avvenuto e cosa sta ancora avvenendo purtroppo in Italia, ovvero la penetrazione massiccia della disinformazione russa attraverso canali televisivi pubblici e ahimè anche privati, o meglio privati e anche pubblici, e anche attraverso la stampa. Il risultato di questa penetrazione della disinformazione russa è lo stravolgimento dei fatti, fatti che sono conclamati, fatti che sono evidenti, fatti che sono noti a tutto il mondo, mi viene da dire, e il loro ribaltamento della versione diffusa dal regime del creminino. Il rapporto che oggi presentiamo cita minuziosamente decine di episodi di questo tipo, ovvero decine di episodi di stravolgimento dei fatti, dove la versione di Putin è stata accreditata come veritiera e senza alcun contraddittorio, come se si trattasse di una fotografia dei fatti, mentre invece non era appunto una fotografia dei fatti, ma uno stravolgimento dei fatti. Ed è proprio per questo che il rapporto che presentiamo oggi svolge un servizio che io credo sia preziosissimo per la nostra democrazia e per la qualità del nostro dibattito pubblico. Siamo davanti ad un caso italiano, purtroppo, di penetrazione della disinformazione russa. L'Italia è diventata, non nel suo complesso per fortuna, ma in molti esempi raccontati dal rapporto che presentiamo oggi, è diventata un po' il campo per scorribande massicce della disinformazione di Putin, che non solo secondo me hanno umiliato il ricordo e la memoria e il sacrificio delle migliaia di civili e di militari ucraini che sono stati assassinati dalla violenza putiniana, non solo hanno gettato fango sulla resistenza ucraina, l'aggressione russa, ma hanno anche gravemente distorto il nostro dibattito pubblico, intossicandolo con un palese capovolgimento della realtà. Tra l'altro, come sappiamo, il caso italiano è stato oggetto di numerose inchieste internazionali da parte di molti giornali stranieri, anche di servizi televisivi, penso per esempio a Arte, il canale televisivo franco tedesco che ha dedicato un reportage molto informato sul caso italiano appunto di penetrazione della disinformazione russa. Non è qualcosa che ci rende orgogliosi, al contrario è qualcosa che ci imbarazza fortemente, ma è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare. Anche perché, e chiudo, quanto sta avvenendo in Italia, quanto è avvenuto in Italia nel dibattito pubblico è una versione completamente distorta del pluralismo. Un conto è il pluralismo, ovvero la libera circolazione delle idee, ci mancherebbe altro, è quello che caratterizza le democrazie e che distingue le democrazie dalle dittature. Un conto è il pluralismo, un altro conto è il trattamento paritario di ogni opinione, a prescindere dal fatto che quell'opinione sia o meno fondata sui fatti, a prescindere dal fatto che quell'opinione sia o meno lo stravolgimento dei fatti, come invece è avvenuto in questo caso. Voglio fare un esempio volutamente provocatorio, potremmo mai immaginare un dibattito in chiave di par condicio, perché questo è avvenuto in Italia, dibattiti ispirati alla par condicio tra gli aggressori e gli aggrediti, potremmo mai immaginare un dibattito in chiave di par condicio tra Goebbels e Anna Frank, naturalmente no, sarebbe un insulto, non solo alla memoria delle vittime della Shoah, ma alla nostra stessa coscienza civile, sarebbe qualcosa di inaccettabile, appunto perché non si trattano alla stessa maniera tutte le opinioni e non è questo il modo di concepire il pluralismo e la par condicio. Eppure qualcosa di simile è avvenuto e sta avvenendo quasi tutti i giorni nel dibattito pubblico italiano, discussioni nelle quali si dava ospitalità, quasi senza contraddittorio a interlocutori che sostenevano che a Buccia non era accaduto niente, che a Mariupol non c'erano state vittime civili come invece li sono state, o secondo i quali la resistenza ucraina sarebbe qualcosa di arbitrario, di ingiustificato, qualcosa di artificioso, qualcosa di manovrato dall'esterno. Ecco, finisco dicendo questo, che l'equivoco tra pluralismo e disinformazione è appunto veleno per il dibattito pubblico, è appunto veleno per la democrazia e quello che colpisce è che la comunità internazionale si sta dotando di strumenti per isolare, identificare e contrastare la disinformazione. Penso per esempio al codice di condotta sulla disinformazione che è stato approvato in versione rafforzata pochi giorni fa dalla Commissione europea, con il concorso di molti soggetti importanti, di molte aziende importanti del mondo social, ed è un codice che tra le altre cose prevede un accordo per il quale non si potrà guadagnare, non si potrà monetizzare sulla diffusione di fake news, che è un passo avanti significativo a livello europeo, con conseguenze che io credo saranno importanti anche sugli stati nazionali. Ecco, se da una parte la Commissione europea si dota di uno strumento di questo genere, con il concorso delle aziende, è singolare, imbarazzante, che in Italia si assista ad un dibattito pubblico nel quale in nome dell'audience, in nome del clamore, in nome dello spettacolo, in nome dell'infotainment, come si dice, si tratti con strumenti di par condicio gli argomenti degli aggressori insieme agli argomenti degli aggrediti. Ed è qualcosa che io credo va isolato, denunciato, come fa, io credo, molto appropriatamente il rapporto che presentiamo oggi. Io mi limito concludendo a presentare gli altri ospiti che animeranno questa discussione, che sono alla mia sinistra Enonora Mongelli, che è la vicepresidente della Federazione Italiana di Vitti Umani, Jacopo Iacoboni, giornalista della Stampa, amico e autore tra l'altro di oligarchi come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia, Olez Orodeschi, che è qui davanti a noi, Presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, e si uniranno a noi in collegamento Olga Tokariuk, che è una giornalista indipendente, ucraina e non resident fellow presso il Center for European Policy Analysis, che è collegata con noi. Si collegherà con noi anche Massimo Gordini, della Open Dialogue Foundation, e ci raggiungeranno tra poco la collega Lia Quartapelle, che è responsabile esteri del Partito Democratico e che in questi minuti e impegnati in un'altra iniziativa politica, e Riccardo Magi, che è un collega deputato di Più Europa. Io do la parola a questo punto a Eleonora, che presenterà il rapporto e gestirà poi la discussione successiva. Grazie. Grazie, ringrazio l'onorevole Andrea Romano e l'onorevole Lia Quartapelle per averci ospitato oggi e anche gli ospiti qui presenti. Oggi, che ricordo, l'Ucraina celebra il 26esimo anniversario della sua Costituzione, simbolo di indipendenza e di democrazia. Ed è giusto ricordarlo così come è doveroso ricordare che abbiamo superato il quarto mese di guerra. Una guerra rivolta alla popolazione civile, una guerra che ha l'obiettivo di annientare l'Ucraina, di farla scomparire, e lo fa commettendo atroci crimini internazionali, atti di terrorismo, affamando la popolazione, togliendole tutto quello che si può togliere dal cibo alle cure mediche, agli affetti più cari. La deumanizzazione e lo stigma sono gli elementi che ritroviamo di continuo analizzando le modalità in cui vengono commessi questi crimini. E mi riferisco ad esempio alle violenze sessuali usate come arma di guerra. Parallelamente, mentre dovremmo concentrarci su questo scenario che ci mostra senza alcun dubbio chi siano le vittime e chi sono i responsabili, mentre dovremmo focalizzarci sul sostegno alle vittime, su come assicurare i responsabili alla giustizia, come accrescere il supporto all'importante lavoro che sta svolgendo la Corte Penale Internazionale, consapevoli che queste atrocità non finiranno se continuiamo a consentire l'impunità dei responsabili e che nessuna pace sarà mai possibile senza una giustizia. Il nostro dibattito pubblico è invece impregnato di discorsi che esulano dalla realtà dei fatti e che fanno da eco alla propaganda del Cremlino. Dopotutto l'obiettivo principale di Mosca, del Cremlino, di questa propaganda è quello di confondere l'opinione pubblica, di deviare le responsabilità dei crimini e compromettere quello che è dovuto, il nostro sostegno all'Ucraina e a favore delle vittime. Parlando del nostro lavoro sulla disinformazione, quindi venendo al report che stiamo presentando oggi insieme alla Open Dialogue Foundation, con la FIDU ma anche con la Open Dialogue Foundation da parecchi anni, osserviamo come la disinformazione ad opera dei regimi penetra nel nostro tessuto democratico anche attraverso i nostri media, rendendo le istituzioni più vulnerabili e mettendo a rischio anche la nostra sicurezza. Nello specifico il Cremlino ha investito molto nella propaganda rivolta all'Europa e questo lo abbiamo sempre fatto presente, sempre denunciato nelle sedi competenti. Infatti per noi non è cosa nuova, dal 2014 la Federazione Russa prova a giustificare ai russi e a noi quella che rappresentava già una grave violazione del diritto internazionale, ovvero l'annessione illegale della Crimea e l'occupazione di fatto del Donbass, con argomentazioni che sono le stesse che ritroviamo oggi, il genocidio del Donbass, la guerra civile, la discriminazione linguistica da parte delle autorità ucraine nei confronti dei russofoni, la presenza di un regime nazista Kiev, di un battaglione nazista nella Guardia Nazionale Ucraina e altri. Queste sono alcune solo delle falsità diffuse da Mosca, in contrasto ovviamente con l'evidenza e la realtà dei fatti ed il diritto internazionale. Purtroppo però molte di queste tesi hanno trovato spazio nei medi italiani nel 2014 e ancora di più oggi. Questo report che appunto ha prodotto FIDU insieme a ODF elenca una selezione di casi per noi di rilievo esemplificativi della disinformazione sia successivi all'invasione di febbraio 2022 ma anche precedenti, proprio per dimostrare come il problema di questa disinformazione, di questa penetrazione della narrazione filo cremelino sia in realtà di lunga durata. Abbiamo notato come questo avviene sia volutamente ma anche può avvenire involontariamente quando ad esempio si verificano semplificazioni e quando manca un'adeguata analisi giornalistica delle fonti o una semplice contestualizzazione dei fatti. Mi riferisco a molti servizi andati in onda sia sulle reti pubbliche che private dalle zone più colpite e occupate come Mariupol, ad esempio. Lo abbiamo scritto nel report, spesso contenuti propagandistici sono veicolati in nome di una malintesa par condicio o libertà di espressione. Questo per noi è un punto fondamentale perché questo finisce per consentire ai giornalisti o ospiti di vario genere di esprimere opinioni che non si basano sui fatti e che sono in palese contrasto con la realtà sul terreno. Se è vero che la libertà di opinione va tutelata è altrettanto vero che come tutte le libertà anche questa si accompagna a delle responsabilità e in questo caso chi fa informazione deve ovviamente potersi esprimere liberamente, allo stesso tempo deve assicurare a chi ascolta un'informazione accurata e verificata perché l'esercizio della libertà di critica e di opinione non è minimamente in discussione qui. La questione è sul diritto dei fruitori a un'informazione corretta e non fuorviante. Invece media, sia pubblici che privati, in Italia hanno spesso veicolato contenuti falsi e questi li abbiamo presentati nel report. Alcuni esempi di questi contenuti sono un po' quelli che ho detto prima delle argomentazioni del Cremlino, nello specifico dire che quella che stiamo osservando non è un'invasione di un paese ma è una guerra di liberazione o guerra civile, parlare di genocidio dell'Ucraina nel Donbass o di discriminazione nei confronti dei russofoni, che l'obiettivo della guerra è quello di garantire la sicurezza degli abitanti della Repubblica Volare di Donbass e della Crimea, che in Ucraina esiste una forte componente nazista, che i soldati a Zoffo sono nazisti, che la Nato si sia espansa ad est in violazione di promesse fatte all'inizio degli anni 90 e che la Russia quindi rischi di essere accerchiata e per questo costretta ad attaccare per difendersi. Queste sono tutte versioni che non trovano riscontro nei fatti e i motivi li spieghiamo nel report. Cito solamente due degli elementi più importanti, forse non i più importanti, però quelli che ritroviamo più spesso, rispetto alla Crimea. Il referendum in Crimea si è tenuto durante un'occupazione militare da parte di truppe russe appena due settimane dopo l'invasione e il cosiddetto referendum non ha soddisfatto i criteri minimi dell'ONU, dell'OSCE e dell'UE in materia di legalità dei referendum. E voglio a questo punto ricordare il voto sulla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014 sull'integrità territoriale dell'Ucraina che ebbe solo dieci voti contrari, oltre a quello della federazione russa ovviamente, e sono Armenia, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Corea del Nord, Sudan, Siria, Venezuela e Zimbabwe. L'altro punto è il genocidio nel Donbass di cui sentiamo tanto parlare, anche qui voglio sottolineare un elemento. Il 16 marzo scorso la Corte Internazionale di Giustizia, organismo dell'ONU, ha stabilito l'illegittimità sotto il profilo dei principi e delle regole del diritto internazionale delle azioni belliche intraprese dalla Federazione Russa in Ucraina, ordinando la sospensione immediata delle operazioni militari. Nello specifico la giustificazione iniziale dell'invasione di Mosca, poi sono seguite altre, però inizialmente era che ritroviamo poi negli ordini esecutivi sottoscritti da Putin sul riconoscimento unilaterale delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, in cui si dava fondamento giuridico ad un'operazione militare speciale per reazione ad atti di genocidio, perpetrati dall'Ucraina ai danni della popolazione di etnia e di lingua russa di quei territori. Questo viene totalmente cancellato dalla Corte Internazionale di Giustizia, che si espressa così. Allo stato degli atti non sussistono elementi per configurare un genocidio perpetrato dall'Ucraina in Donbass. Eppure noi sentiamo ancora queste tesi senza contraddittorio nelle tv e anche in molti articoli di giornale. Posso fare un altro esempio? Abbiamo visto diversi servizi sulle nostre tv girati nelle aree occupate, come dicevo prima, ad esempio Mariupol, hanno raccontato come la popolazione locale si stesse riadattando alla nuova vita dopo la liberazione. Questo lo abbiamo visto in un lungo servizio su Mariupol occupata trasmesso da report sulla RAI. Il servizio contiene interviste fatte su un'area sotto totale controllo delle forze russe e il reporter è stato affiancato per tutto il tempo da militari russi. Sembra banale, ma occorre ribadirlo. Nelle aree occupate non è possibile effettuare giornalismo indipendente, così come non è possibile effettuare un qualsiasi monitoraggio indipendente. Eppure la contestualizzazione di tale servizio non c'era. A dimostrazione che questi lavori vengono organizzati insieme alle forze occupanti c'è l'elogio e la diffusione del servizio da parte dell'ambasciata russa in Italia sui suoi canali social. Inoltre prima di chiudere passare la parola al mio collega della Open Dialogue Foundation Massimo Gordini vorrei aprire una piccola parentesi sulla questione sanzioni europee. Spesso il comportamento dei nostri media ha rasentato la violazione delle sanzioni dell'UE contro i media statali russi agendo contro gli obiettivi perseguiti dall'Unione. Persone che figurano un elenco delle sanzioni dell'UE come il noto propagandista Dimitri Kulikov e alcuni dipendenti dei media abbannati come Sputnik sono stati invitati a talk show nonostante come anche ricordato dalla Commissione europea sia noto che la disinformazione diffusa dal Cremlino rappresenti una componente essenziale dell'aggressione russa dell'Ucraina. Prima di chiudere volevo giusto citare un paio di punti di un documento pubblicato dal sito del Consiglio europeo riguardo alle restrizioni dell'Unione europea sui media russi di proprietà statale perché c'è molta confusione a riguardo esiste un documento con delle domande e delle risposte più frequenti e in particolare rispetto al divieto che si riguarda anche la diffusione di contenuti attraverso altri mezzi come ad esempio un sito web qui parliamo del ban su Sputnik RT Russia Today e l'Unione europea è chiara su queste cose perché dice che praticamente non il ban è esteso a una qualsiasi tipologia di diffusione dei contenuti propagandistici che vengono da Russia Today e da Sputnik quindi non solamente legati alla televisione ma anche se questi contenuti sono web, sono filmati, sono fotografie, anche brevi video. E poi c'è un altro punto importante che loro sottolineano i giornalisti che agiscono in buona fede possono trasmettere contenuti creati dall'entità prese di mira e qui la Commissione è chiara perché dice che la libertà di parola non può essere invocata dai media per aggirare il regolamento e se un media o un giornalista pretende di informare i propri lettori, telespettatori ma in realtà il suo comportamento mira a trasmettere al pubblico i contenuti di Russia Today o Sputnik o a questo effetto violerà il divieto stabilito dal regolamento. Ecco io mi fermerei qui e do la parola a Massimo Gordini, advocacy officer della Open Dialogue Foundation con cui abbiamo prodotto questo report che è in collegamento da Bruxelles. Massimo. Salve, buonasera, mi sentite? Soltanto un po' al discialzato e comincerò a parlare. Sì, ti sentiamo. Perfetto, fantastico, grazie mille. È un piacere essere qui con voi, è un onore ed è un piacere soprattutto parlare dopo l'onora. Cosa posso aggiungere dopo una presentazione così completa già portata da lei? Vorrei soltanto riallacciarmi forse un secondo a qualcosa che l'onore ha detto, in particolare, in modo abbastanza breve, lei ha menzionato che la disinformazione russa più che convincere mira a confondere. E non posso sottolineare abbastanza questo elemento. La disinformazione russa non vuole necessariamente far passare un messaggio preciso, qualcosa che voglia persuadere l'opinione pubblica di un altro paese. Se ci riesce tanto meglio, per l'amor di Dio. Ma il suo obiettivo principale è di portare una massa gigantesca di informazioni anche contraddittorie che a un certo punto rendano il pubblico del paese nemico completamente schiacciato, incapace a questo punto di prendere delle decisioni che in questo momento sono assolutamente necessarie per proteggere l'Ucraina, un paese amico e democratico sotto aggressione. Una campagna di disinformazione che sia davvero di successo e che possa chiamarsi completa, è una campagna dopo la quale la disinformazione non è neanche più facilmente identificabile. Tutti sono in grado di dire, ok, quello che viene da Russia Today, quello che viene da Sputnik, è ovviamente propaganda, è ovviamente disinformazione, ma dopo un lavoro certosino e di molti anni da parte della Russia, certe informazioni, certi stereotipi, certe falsità diventano parte del discorso comune. Ed è questo quello che siamo riusciti a vedere durante la stesura del rapporto, che tantissime persone che non hanno necessariamente neanche dei collegamenti diretti con il Cremlino ripetono ciò che la propaganda del Cremlino stessa ha portato nel nostro spazio informativo per anni e anni. Sono diventate dei megafoni della propaganda di Mosca. Ora, questa è una strategia che il Cremlino porta avanti da tantissimi anni. Posso citare il disertore del KGB, Yuri Biesmienov, che andò a vivere in Canada e che ne ha parlato a lungo e che citò anche la famosa operazione Infección, che fu un'operazione del KGB che mirò e della Stasi, che mirò a far pensare che gli Stati Uniti fossero dietro la creazione dell'AIDS. E per farlo inventarono una serie di specchi che permissero poi al Cremlino di simulare l'origine di questa storia, farla sembrare qualcosa pubblicato da scienziati tedeschi, riportato da media indiani. E piano piano questa falsità si è diffusa tramite dei canali che il Cremlino potrà semplicemente negare, fossero suoi, ed è diventata parte del discorso comune. Questo, ovviamente con le debite differenze, è ciò che riusciamo a vedere perfino nella televisione pubblica in questo momento. Che il Cremlino non ha più neanche bisogno necessariamente di spingere proprio un messaggio, perché questo messaggio viene riportato da altre persone. Ora, il Cremlino in questo momento gioca una partita ovviamente ad armi impari con noi, perché la loro concezione dei media è semplicemente un altro spazio di battaglia, dove essendo un regime dittatoriale nel quale la democrazia è completamente assente, l'attuale governo ha il controllo completo dei media. Trattare dei media come Russia Today, dei media come Sputnik, qualunque giornale che sia in qualche modo riconducibile, per esempio il Ministro della Difesa della Federazione Russa, come se fossero dei media normali, è ingenuità, nel migliore dei casi. È assoluta ingenuità, perché questi media non sono media normali, non sono comparabili al servizio pubblico italiano, ad esempio, non sono comparabili a nessuna testata dell'Occidente, perché non hanno la libertà e non hanno la volontà di portare nessun tipo di informazione altra che non sia semplicemente la più pura e crudele propaganda di un regime che sta attaccando un Paese pacifico e democratico. Ora, Eleonora ha già parlato delle sanzioni dell'Unione Europea riguardo a Russia Today e Sputnik, quindi non farò altro che semplicemente ripetere che invitare persone che lavorano per questi media. Come minimo significa andare contro lo spirito di queste sanzioni. Sanzioni che mirano a proteggere proprio il dibattito che noi vogliamo tutelare. Il dibattito è libertà di opinione, alla quale si rifanno costantemente coloro che vogliono invitare queste persone. Non è piena libertà di opinione semplicemente perché queste persone non possono portare un'opinione, possono portare esclusivamente propaganda, ciò per cui sono pagati e ciò che faranno. Se anche volessero fare altrimenti non potrebbero mai farlo, visto il prezzo altissimo che si paga per il vero giornalismo in Russia, come abbiamo potuto vedere tantissime volte, come vediamo da almeno vent'anni in realtà, è come non era possibile non vedere se avessimo voluto. Ora, permettere a queste persone di utilizzare altri media per portare il proprio messaggio può costituire, e molto probabilmente costituisce, non sono un avvocato, ma molto probabilmente costituisce una violazione delle sanzioni, nel senso che permette la radiodiffusione dei contenuti di Russia Today e di Sputnik. Adesso, molto spesso nell'ambito italiano si dice, di nuovo con profonda ingenuità, che si tratta di parcondicio, che si tratta di libertà di opinione, che tutti hanno diritto a un'opinione. Certo, ovviamente tutti hanno diritto a un'opinione, ma in un momento in cui una parte del conflitto, la federazione russa, ritiene lo spazio informativo semplicemente un'altra area della propria campagna. È ingenuo pensare che il giornalista non agisca anche da filtro davanti alla disinformazione, altrimenti che cos'è un giornalista? È semplicemente un canale YouTube, un giornalista è semplicemente una pagina Facebook, un aggregatore di notizie. A che cosa serve un giornalista se non è in grado ad esempio di capire che l'opinione di qualcuno che viene invitato non è allo stesso livello di qualcun altro? Qualcuno magari non è sufficientemente informato. Perché vengono invitati, ad esempio, i professori di filosofia a parlare di Ucraina sulla televisione italiana? Perché vengono invitati i professori di sociologia a parlare di Ucraina? Perché vengono invitati i professori di storia medievale a parlare di storia contemporanea? Eccetera, eccetera. Perché vengono invitati psicologi che hanno fatto un documentario che era completamente propaganda del regime russo e dei suoi alleati nell'Ucraina e nell'estero? A parlare come se fossero degli esperti. Quello che chiediamo ovviamente non è censura, come magari potrebbe essere detto da alcuni. Quello che chiediamo semmai è semplicemente un giornalismo di maggiore qualità, è quello che ci aspettiamo dalla RAI e quello che ci aspettiamo anche dai media privati. Ed è per questo che abbiamo fatto questo report. Per mostrare esattamente in quali punti il giornalismo non è riuscito ad agire da filtro rispetto a tutta la disinformazione che passa e che passa attraverso tantissimi canali e tantissime persone. Io più o meno chiuderei qui. Vorrei riportare semplicemente poi al testo del report e lasciare agli altri speaker il loro momento per parlare. Se poi ci sono domande io rimango qui. Grazie mille. Grazie Massimo, grazie per esserti soffermati su quelli che sono dei punti caldi della discussione quando si arriva a parlare di disinformazione. E adesso sono felice di dare la parola a Jacopo Iacoboni che è giornalista della stampa e anche autore di oligarchi come gli amici di Putin stanno comprando l'Italia. Grazie, buonasera a tutti. Grazie innanzitutto dell'invito a Eleonora e a tutti voi. Leggerò con attenzione il il report che avete preparato e e con curiosità. Naturalmente i casi sono tanti quindi ci sarà c'è stato e ci sarà lavoro diciamo ma soprattutto bisogna capire che cosa sta succedendo no al di là dei casi anche se è bene farli perché in questo modo poi altrimenti sembra che il discorso è una strazione. Io vorrei partire dicendo due cose brevemente. Andrea Romano accennava un po' al fatto che diamo un po' di prospettiva a questo problema italiano. Allora è successo negli ultimi mesi che in molti paesi europei tutta la grandi organi della stampa indipendente internazionale inglese, francese, americana di ogni orientamento diciamo progressista o conservatore diciamo da Liberation al Financial Times o al Wall Street Journal si sono trovati stranamente d'accordo nel ravvisare che c'è un problema in Italia. Vi faccio un piccolo elenco brevissimo. Direi che ha iniziato Liberation con un articolo intitolato propaganda russa il Cremlino ha trovato il suo posto dentro i media italiani. Politico, Infowar, guerra di informazione, la propaganda di Putin permea i media italiani. Guardian, l'Italia con un problema di disinformazione lancia un'inchiesta sulla disinformazione del Cremlino. Le Monde, guerra in Ucraina, la petite musique pro russe della televisione italiana, si concentra sulla televisione. Financial Times, i media italiani sono diciamo arrotolati, incartati dalla propaganda russa. Vabbè potrei andare a romano citare a parte ma insomma ci sono state e anche nei mesi precedenti diciamo il problema non è nuovissimo anche se in questi mesi della guerra è emerso in maniera abbastanza drammatica. Tutti i pezzi che hanno fatto esempi e che non hanno destato lo scandalo di un articolo uscito sul Corriere della Sera che faceva alcuni nomi di diciamo di soggetti soprattutto freelance che erano stati protagonisti di episodi di disinformazione e articolo sul quale poi è stata una montata a sua volta secondo me una campagna di cacciara per oscurare il problema e diciamo dipingerlo come una una specie di caccia alle streghe. È sempre il solito menù no? Quando si trova, quando si mette il dito in un problema sì sì c'è sempre un vasto trasversale fronte che cerca di confondere le cose e non parliamo soltanto di disinformazione russa ma proprio diciamo di scenario paesaggio informativo italiano in cui questo avviene. Quindi diciamo questo è il quadro diciamo che è stato dipinto dai giornali, dai principali giornali stranieri poi se volete ovviamente vi do tutte le date così magari è utile rileggersi questi articoli e se non altro per vedere diciamo che o c'è veramente un grande complotto internazionale democratico contro i media in Italia oppure come io probabilmente penso c'è un problema che naturalmente va inquadrato e qui diciamo è la parte più difficile del problema perché nelle operazioni di disinformation si mescolano ovviamente soggetti innocenti e soggetti non innocenti. Allora questa sarebbe la prima grande distinzione da fare. Adesso sfogliando il vostro report ho visto diciamo non ci si pronuncia su questo mi sembrano a occhio tutti o comunque i casi di diciamo di innocente disinformation o misinformation. Il problema quale è però è che è in corso secondo molti analisti delle intelligence non solo italiane anche anche americane una operazione che punta a utilizzare diversi di questi soggetti quindi non stiamo parlando per forza del problema di chi è al soldo di qualche potenza straniera ma di come utilizzare all'interno di reti per quanto riguarda i social network e all'interno di programmi televisivi soprattutto talk show degli opinionisti orientati che possono essere sia russi sia italiani dentro un'operazione che punta a far passare alcuni dei talking points del Cremlino. Vi faccio un esempio. Un talking point del Cremlino è che in Ucraina in fondo c'è una guerra civile non una guerra della Russia all'Ucraina cioè in pratica questi si stavano scannando da anni tra ucraini anzi in particolar modo gli ucraini contro i russofoni tra virgolette del Donbass e quindi la Russia va lì per dirimere questa questione. Purtroppo ho sentito questa cosa della guerra civile ritornare molto spesso anche in servizi per esempio anche da Mariupol tu ne citavi alcuni Eleonora Mongelli e chi studia queste cose riconosce molto facilmente quali sono i talking points del Cremlino per esempio le sanzioni non funzionano più armi si spediscono e più la guerra continuerà e durerà a lungo e l'agonia degli ucraini durerà a lungo la guerra è una guerra civile sono proprio diciamo così quasi un manualetto di propaganda e disinformation che si trova delle volte anche sulle bocche semplicemente di persone che non hanno studiato questo argomento e non lo sanno non lo riconoscono no non capiscono delle volte di essere uno strumento di una operazione perché dico che c'è un'operazione cioè non lo dico io io in realtà mi limito di solito a riferire delle cose che mi vengono dette da delle fonti o comunque insomma da delle ricostruzioni che mi sembrano informate e verificate però vi faccio alcuni esempi parlando dei russi così non parliamo degli italiani altrimenti dio sa che cosa ci succede e allora io qualche tempo fa avevo fatto un articolo sulla stampa prima di questo cioè sempre in questo periodo diciamo durante la guerra in cui facevo un po' di nomi di questi russi che improvvisamente hanno preso ad andare nelle tv italiane e io mi chiedevo cioè siccome io leggo tantissimi articoli di giornalisti russi no e ne conosco cioè nel senso chi di voi può citare qua dieci giornalisti russi secondo me già qua saremmo fatica e scoprivo della gente che io non conoscevo mai sentita nominare quindi allora sicuramente i talk show hanno usato altri canali informativi rispetto a diciamo al giornalismo indipendente russo che seguo io però poi diciamo mi hanno colpito dei casi e alcuni mi sono anche stati diciamo suggeriti diciamo di 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 andarci a guardare eh vabbè alcuni sono diventati famosi per esempio questa Nadana Friedrichson no che andava sempre sulla sette anche a Rai 3 eh vabbè lei è venuto fuori che lavora per questo canale Zevda che è il diciamo una tv della del ministero della difesa e e e sostanzialmente qual è il problema? Non è tanto lavorare per un canale del ministero della difesa ma ma che questa tv è già stata in passato al centro per esempio quando ci fu la la vicenda degli aiuti russi in Italia i russi fanno altre cose un due eh un giornalista e un cameraman di questa di questa tv poi naturalmente posso sempre fornire tutti i dati quello che dico e e questi qua diciamo erano due considerati da molte intelligence per esempio quella estone delle delle presunte spie russe quindi non giornalisti che furono stati furono espulsi in quel caso dai paesi baltici noi ce li ritroviamo in in Italia e loro lavoravano per la stessa tv per cui lavora questa Nadana Friedrichson con questo io non sto dicendo che lei sia una spia dico però che è stata guardata come una giornalista diciamo da tenere da 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 guardare un po' lei nega assolutamente di esserlo poi c'è un altro tizio che mi aveva colpito molto si chiama Piotr Fiodorov che è anche lui molto spesso ospite di La Sette eh lavora per un network che si chiama VGTRK che è uno dei tre grandi diciamo stazioni broadcaster eh a cui Ursula von der Leyen si è riferita testualmente sono dei portavoce che amplificano in modo a quando annunciò il sesto pacchetto di sanzioni europee le bugie e la propaganda di Putin e mh la BBC riportò che sotto sanzioni erano cadute sia Rossiglia tv quella di di Soloviov per capirci sia RTR Planeta la tv di Feodorov è bannata in Europa ma lui appare fisso in Italia. Altra altro caso interessante di una russa che si chiama Giulia Vitazieva che diventò famosa quando fece un tweet dopo l'Eurovision dicendo che ci voleva un missile Sarmat su Torino perché aveva vinto la band Ucraina non mi ricordo il nome bella canzone purtroppo adesso non mi viene il nome ma comunque lei questa vittoria non gli era non gli era assolutamente piaciuta e aveva scritto questa cosa che ovviamente era un tweet però quello molti andarono a vedere ma c'è beh certo forse questa in realtà bastava fare poche semplici ricerche lei lavora per News Front un'organizzazione diciamo presunta diciamo presunto media russo in Crimea che già da anni sotto sanzioni del del tesoro americano che la definisce un canale di disinformazione e propaganda con sede in Crimea in particolare focalizzato sul supporto delle forze armate della Russia in Ucraina per gli Stati Uniti non sono giornalisti potrei fare anche qualche altro esempio non so vabbè ma insomma se se ne potrebbero fare diversi oppure lo stesso Soloviov qualche tempo fa l'anchorman principale diciamo forse il più famoso in Russia o comunque uno dei due o tre più famosi della trasmissione serale che danno da anni tutte le sere eh diciamo riempie di propaganda la la le diciamo i salotti russi i i tinelli russi delle case russe e Soloviov è lui personalmente sotto sanzioni tra l'altro col sequestro di molte ville di due o tre ville che ha in Italia sul lago di Como quindi insomma diciamo anche qua non so se se giuridicamente le sanzioni sugli asset eh impediscano a una persona diciamo di fare l'opinionista in una tv europea però diciamo è è per lo meno strano noi siamo un paese dell'Unione Europea al buon senso se noi stiamo sanzionando e mettendo il travel ban è sempre collegato perché lui ha il travel ban non può entrare in Europa cioè mi sembra Andrea un po' strano che giuridicamente uno non possa entrare in Europa ma possa stare tutte le sere in una tv europea a parlare cioè in fondo è è più pericoloso parlare tutte le sere in delle tv che non mettere piede in Italia infatti scusa se integro questa tua giusta come c'è stato fatto notare anche dalla Commissione Europea questa è una violazione delle sanzioni diciamo le sanzioni membri della c'è chi ha detto questo della Commissione Europea eh è vero me lo ricordo bene adesso anche qui potrei eh risalendo potrei eh trovare la il commissario che l'ha detto comunque insomma io indico perlomeno il problema adesso non 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 la soluzione questo riguardo una serie di russi che chiaramente hanno un un collegamento con diciamo abbastanza evidente con eh con lo Stato russo con 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 il Cremlino eh naturalmente questo non significa dire che loro siano degli operativi dei servizi segreti russi eh e e quindi diciamo c'è questo problema mh abbastanza grosso la cosa che mi aveva molto colpito e su cui però non sono riuscito ad andare avanti è come sono arrivati questi nomi alle tv italiane perché appunto partendo io dal punto che cioè io li ho chiesto anche ad altri cioè nella stampa eh ci sono mh alcuni bravi giornalisti che si occupano di queste cose ci siamo un po' interrogati ma cioè ovviamente tutti conoscevamo solo Viov oppure eh Dimitri Kiseliev oppure Olga Skabeyeva eh anche tra Ian Corman quelli più famosi ma per esempio alcuni non totalmente ignoti quindi questi qui da chi sono stati tirati fuori abbiamo provato anche a chiedere un po' agli autori dei programmi così ma incontrando una certa diciamo atteggiamento difensivo nel capire da chi questi nomi erano sotto il lettone da chi erano stati proposti questi nomi erano ascolti sotto il lettone poi credo che che è un ruolo abbastanza attivo almeno nel portare alcuni ospiti per esempio solo Viov o Lavrov vabbè ovviamente diciamo su un piano molto molto più alto l'abbia avuto la portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova che è diventata una specie di di sentinella tra l'ambasciata e i canali televisivi o almeno alcuni canali televisivi italiani anche qui mi mi preoccuperei del fatto che Zakharova è una sottosanzioni anche lei nella prima ondata di sanzioni la prima cosa che ha fatto l'Unione Europea è sanzionare tutta una serie di propagandia ancora prima di sanzionare gli oligarchi tipo Abramovic o o o o Deripaska o o Friedman o Aven o altri hanno sanzionato i propagandisti ritenendo giustamente che i tre corni diciamo delle operazioni del regime di Putin sono propaganda cleptocrazia quindi rubare sostanzialmente e guerra no tutte e tre cose che si tengono insieme in un triangolo una conduce all'altra ultima cosa che volevo dire è per non dimenticare invece quello che avviene sui social perché ci sono state ricerche anche interessanti ultimamente che hanno visto quanti account con la zeta sono sorti in che coordinazione agiscono un numero abbastanza anche alto devo dire perché erano circa 600 account nativi diciamo zettisti in lingua italiana da una base di partenza di 8000 quindi comunque capaci di fare un certo rumore per esempio voi dite su bucia no ma adesso in queste reti ci sono per esempio anche account italiani per esempio quello di una rivista molto vicina ai grillini che si chiama l'antidiplomatico o almeno una rivista molto vicina a quella parte di grillini legata di Battista quindi insomma uno che tutto sommato non è così lontano dal dalla guida attuale del movimento 5 stelle mi stavo aprendo questa rivista per curiosità proprio adesso 28 giugno ore 14 c'è un articolo intitolato cremenciuc è la nuova bucia dei media occidentali adesso non ho ancora visto che che viralizzazione poi può avere però per dire ci sono dei punti dove vengono impiantate delle narrazioni e poi vengono viralizzate vi faccio un altro esempio perché fa così per capire no di grosso di sensibili operazioni di disinformation che sono avvenute per esempio sul 25 aprile questa è la liberazione in Italia dal nazifascismo e ovviamente i russi hanno è stato molto su questa cosa perché appunto cioè presentandosi come loro eh compartecipi della della eh della della liberazione no poi naturalmente si possono fare anche qua delle discussioni storiche e vediamo se il ritrovo perché c'erano una serie di di account sostanzialmente russi che invitavano a seguire molto la brigata Garibaldi e a a spingere molto la l'attacco a in questo caso a tutta la narrazione sul battaglione Azov nazista quindi diciamo attenzione non fate entrare i nazisti ucraini nel corteo del 25 aprile e gli stessi account hanno iniziato a viralizzare molto quella grafica del dei sotterranei dell'acciaieria Azovstal quel presunti sei piani di sotterranei della acciaieria Azovstal eh come mega bunker sotterraneo costruito dai eh si è svelato che non esiste nessun nessun sei piani di bunker però la cosa grave è che questa grafica non c'è solo viralizzata ma è andata anche stata utilizzata in due trasmissioni due talk show molto importanti non dirò quali perché eh in questo caso è stato un errore cioè diciamo possono capitare gli errori però insomma sono sempre eh fatti che fanno riflettere cioè per dire quanto anche il delle operazioni sui social partendo magari da degli account sconosciuti possono anche approdare al mainstream secondo me la cosa ho finito se no vi annoio la cosa più interessante di questo di questo periodo dal punto di vista della disinformation è stato che è diventato totalmente mainstream tutta una serie di operazioni che in questi anni anche durante per esempio il trumpismo la brexit erano operazioni fringe cioè che avvenivano diciamo ai margini del diciamo dell'ecosistema informativo e poi si viralizzavano diciamo come come punto massimo su facebook ma partendo anche da reddit o da dei social diciamo meno meno conosciuti invece adesso parliamo proprio della tv in prima serata e mi sembra interessante questa cosa andrebbe sottolineata forse bene cioè eh che tutte queste narrazioni che vi ho detto sono ormai eh mainstream e mainstream nella tv chiudo dicendo a proposito del pluralismo che ovviamente tutte le le opinioni devono essere eh eh non solo rispettate ma anche quelle più polemiche o più o più eh discutibili no? Quelle anche più quello che invece secondo me non si può accettare sono le informazioni fattualmente false e eh e bisogna anche distinguere eh ecco se se per esempio un punto di vista diciamo di forte disinformation o di misinformation viene sostenuto da eh un intellettuale eh come dire eh in buona fede è un caso che bisogna distinguere da se questo punto di vista viene eh sostenuto da una persona organicamente all'interno di un'operazione naturalmente è difficile capirlo no? Però per alcuni per esempio dei russi che ho citato io qualche dubbio fondato ce l'ho e quindi questo è un è un punto da 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 capire cioè e qui entriamo diciamo passiamo il il diciamo sottile linea che separa la disinformation dalle dalle operazioni di di spionaggio e dall'interferenza estera e questo sarebbe tutto un altro capitolo stavo vedendo che adesso sono stati proprio oggi pomeriggio espulsi 70 presunte spie russe dalla Bulgaria diplomatici presunte spie ce ne sono 140 in tutta la Bulgaria ricordate che anche in Italia ne sono stati espulsi un bel po' recentemente e il il primo segretario del della della ambasciata russa eh a Roma eh quello che eh ha eh comprato i biglietti per il il viaggio a Mosca di Salvini biglietti poi dice Salvini prontamente rimborsati eh quello lì è il figlio risultato essere il figlio del capo dei servizi segreti militari russi no? Questo per dire quanto diciamo poi eh entriamo in un confine in cui dalla questione della disinformation transitiamo poi alla questione dello spionaggio i all'estero dei russi grazie Jacopo Jacoboni eh effettivamente con gli esempi che ci hai fatto no? Si si mostra chiaramente il motivo per cui è importante analizzare queste informazioni di disinformazione ma anche di misinformation perché poi no? Rispetto a quella che viene detta libertà di opinione che ribadiamo nessuno la mette in discussione sacrosanta però la disinformazione è altra cosa è veicolare con la volontà dei delle informazioni propagandistiche contro la verità dei fatti e quindi una volta che si comincia a studiare quello che accade nelle operazioni di disinformazione poi ci si accorge di tanti legami come hai detto prima del rispetto ai social delle operazioni anche sui social e anche eh legati ai famosi ads alle pubblicità dei social quindi follow the money anche se si seguono questi queste sponsorizzazioni che vengono comprate da eh gruppi eh che fanno disinformazione poi si capisce anche no? Che cosa sono capaci di di far muovere a livello social? Ehm sì. Va nominata la parola Telegram perché ehm qualche tempo fa Margarita Simoniana direttore direttrice di RT TV bannata in Europa insieme a Sputnik dopo che Andrea Romano ricorderà ci sono stati in questi anni dibattiti anche furiosi sul fatto che ogni eh minima obiezione ai contenuti viralizzati da Sputnik da RT in Italia veniva etichettata come una volontà di censura no? Quando semplicemente si poneva la questione che quando entrano in un circuito virale forse ci poteva essere un modo per segnalare almeno i casi più eclatanti segnalare ex post no? Quindi non una censura preventiva. Adesso purtroppo siamo arrivati al fatto che queste TV sono state censurate in Europa. Cioè io non dico che sia bello non mi piace per niente però siamo arrivati a questo perché siamo intervenuti enormemente tardi rispetto al alla all'emersione del problema e non restava altro che bandirle. Dicevo che Margarita Simonian la direttrice di Russia Today parlando in eh credo proprio nel nel talk show di Solo Viov eh poi naturalmente tutte queste cose che dico posso dare i dati e i riferimenti precisi eh le date di quando questo è avvenuto eh ha detto che ehm loro erano banditi in Europa ma si stavano attrezzando creando e ricreando ogni due o tre giorni canali YouTube e Telegram su cui veicolare i contenuti di RT. Adesso non vi disse lei non dico altro per non dare all'intelligence la dritta su come venircele a chiudere perché poi ogni tanto quando vengono chiusi vengono riaperti cioè c'è già una circonvenzione delle sanzioni in corso. Come dicevo prima no ci sono comunque il Consiglio Europeo mette a disposizione proprio delle domande delle risposte proprio su questo quando si quando è considerato che si aggirano le sanzioni e rispetto a quello che dicevi prima eh Jacopo sul eh su il ban dell'Unione Europea su Sputnik Russia Today eh è doveroso ricordare che questo ban durerà fino a quando la Russia non ritirerà le truppe quindi è una cosa che è eh concentrata nel su in questo momento di atroce guerra contro l'Ucraina perché e delle nelle motivazioni dell'Unione Europea Russia Today e Sputnik sono usati come mezzi per fare la guerra in Ucraina. Quindi è proprio cioè il discorso è perfetto e fila non non è censura eh così giusto per ripicca contro la federazione russa. Ehm ora do la parola a eh Olga Tokariuk giornalista ucraina indipendente non resident fellow presso CEPA in collegamento con noi. Grazie Olga per averci raggiunto. Grazie Eleonora, grazie a tutti. Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo bene. Bene. Eh molto è stato già detto e eh sono molto contenta che si eh parla finalmente in Italia sul problema della disinformazione e propaganda russa, un problema che ancora eh qualche anno fa veniva negato. Mi ricordo molto bene conversazioni eh mie con dei colleghi giornalisti italiani quando sollevavo eh questo questo problema è che mi guardavano un po' sconvolti dicendo che cercando di convincermi che non esiste in realtà un problema che non è molto grave che comunque questi operatori di disinformazione non è che abbiano molta influenza non è che abbiano eh che facciano differenza sull'opinione pubblica. Invece ehm si è accorto si sono accorti molti in Italia ehm dopo l'invasione russa eh dell'Ucraina su larga scala che il problema c'è e il problema è serio eh il problema è veramente ehm è serio talmente talmente serio che ehm ha anche un impatto sull'opinione pubblica in Italia. Ehm sono contenta che eh si parla finalmente vi ringrazio per aver preparato questo report di cui ho letto una eh bozza eh una versione quasi finale veramente tanti casi ben argomentati eh che comunque non sono tutti questi casi no? Avete scelto forse quelli più clamorosi ma dei casi ce ne sono molti di più e anche eh credo che dopo eh che avete finalizzato questo report già alcuni nuovi casi si sono aggiunti nei prossimi negli ultimi giorni no? Ehm quindi ehm da un lato sono contenta che finalmente se ne parla in Italia si prende il problema di disinformazione russa sul serio da un altro ehm comunque bisogna vedere eh quale sarà la reazione e quali saranno le azioni credo che sia importante anche che ci che sia stata creata eh la commissione che indaga proprio su questi propagandisti russi che ha menzionato Jacopo come eh da dove sono spuntati molti eh di questi nomi non li conoscevo nemmeno io io comunque eh seguo un po' quello che viene detto nei media russi sull'Ucraina e quindi dei nomi eh diciamo di media di cosiddetti giornalisti non li chiamerei giornalisti di media russi riconosco e comunque ehm ero sorpresa ed è la prima volta che anch'io ho sentito alcuni di quei nomi che eh sono apparsi alle varie tv italiane quindi una buona domanda eh eh meriterebbe un'inchiesta da dove spuntano queste persone come mai eh che eh è stato concesso così tanto spazio eh nei programmi televisivi italiani ehm ho visto anche dei risultati di un sondaggio fatto da eh Reuters Institute of Study of Journalism eh con la sede a Oxford era un sondaggio che proprio ehm cercava di misurare diciamo l'effetto di eh la percezione pubblica eh della guerra in Ucraina e eh se eh il pubblico in vari paesi europei ehm eh come si informa da quali fonti eh come reputa diciamo la qualità delle informazioni fornite dai media e e da questo report emerge che ancora la maggior parte di cittadini di paesi europei ma anche fuori dell'Europa si informa dalla tv e credo che in Italia non sia un'eccezione in questo che il pubblico ancora si informa maggiormente tramite la tv e in questo senso diciamo la presenza di ehm disinformazione di operatori di disinformazione russa eh eh sulle tv italiani ehm è veramente un fatto grave eh che indica che potrebbe essere in corso anche un'operazione di influenza sicuramente bisognerebbe indagare ed è molto difficile anche provare diciamo con assoluta certezza eh che ci sia dietro diciamo un un governo russo o qualcosa del genere però comunque l'inchiesta deve esserci eh ed è bene che in Italia se ne parli anche se credo che ehm questo dibattito è partito anche in parte eh dopo che eh sono emersi eh vari articoli nei media internazionali no? Quelli che sono stati già nominati oggi Guardian Politico eh anch'io ho commentato sull'argomento per media spagnoli francesi eh che eh erano interessati diciamo in quello che succede allo spazio mediatico italiano e ho chiesto anche a loro se anche nei loro paesi osservavano un un trend simile ehm diciamo se se erano anche nelle tv in Spagna o in Francia presenti diciamo esponenti del governo russo o rappresentanti dei media eh di stato russo e mi hanno assicurato che questo che non questa ehm tendenza nei loro paesi era assente quindi anche loro erano sorpresi diciamo che così tanta facilità veniva concesso eh così tanto spazio eh sulle reti televisive italiane sia private che pubbliche a questi personaggi a dir poco eh controversi quindi ehm non non posso dire che sia un fenomeno eh unicamente italiano ma diciamo il fatto che la cosa non succede sulla scala così larga come in Italia e in altri paesi europei bisognerebbe far riflettere soprattutto gli italiani e anche quelli che dicono che sostengono la libertà di stampa e che ehm c'è bisogno della pluralità delle opinioni assolutamente cioè io come giornalista eh sicuramente difendo difenderò sempre la libertà di stampa ma eh anche lavorando come giornalista sono arrivata diciamo alla ad interessarmi di come funziona la disinformazione propaganda russa perché ho visto nel mio lavoro l'impatto che aveva eh sulle vite delle persone cioè sui casi reali qui mi riferisco soprattutto al caso Marchiv eh però anche abbiamo visto che la disinformazione russa e non è diciamo una teoria o una cosa non provata ma abbiamo visto che ruolo ha avuto per esempio la campagna per Brexit o nelle elezioni americane del 2016 quindi sono le cose ehm provate che c'erano delle campagne di influenza di interferenza russa e che c'era l'uso massiccio di disinformazione propaganda per veicolare il risultato che eh per i russi era per il governo russo era quello eh desiderabile eh secondo me eh in Italia non c'è ancora mh abbastanza dibattito diciamo di eh dei rischi eh che rappresenta che rappresenta la disinformazione non eh la società non è abbastanza informata su come funziona la disinformazione russa eh non c'è anche nel sistema educativo eh un corso eh di resilienza cosiddetta mediatica un corso eh di questo tipo è stato introdotto per esempio nei paesi nordici in Estonia in Finlandia bambini anche eh già nella scuola iniziano a studiare di come riconoscere un fake di come riconoscere la disinformazione come verificare i fatti ehm in Italia a quanto io sappia ancora non eh non esiste un corso simile eh quindi ehm da un lato come ho detto va bene che il dibattito è iniziato da un altro secondo me bisogna ancora fare tanto per eh rendere diciamo per ehm far capire quanto quanto sia grave il problema di disinformazione e a quali ehm guai potrebbe portare se non viene presa sul serio e non viene eh contrastata. Ehm vorrei anche aggiungere diciamo ehm sottolineare eh eh mettermi d'accordo con le parole eh espresse da Massimo prima che eh molto spesso lo scopo di disinformazione non è quello di convincere il pubblico di una cosa di un'altra cosa ma è quello di confondere e soprattutto ehm come vediamo sul caso ucraino ehm è così che funziona la propaganda russa. Ha funzionato così nel 2014. Vi ricorderete quando è stato abbattuto il volo MH17 i russi, i media russi ehm hanno eh pubblicato diverse versioni molto spesso contraddittorie eh su quello che secondo loro era successo. Eh continuano ad operare nello stesso modo anche adesso e lo scopo di di questo metodo diciamo è quello di far confondere il pubblico fino a tal punto che il pubblico non capisce più niente e dice beh allora la verità non esiste e quindi ehm è incapace diciamo di prendere una posizione netta e di distinguere diciamo i fatti eh da da tutte queste versioni varie che non non vengono fondate sui fatti. Eh la eh macchina di disinformazione russa per anni ha lavorato per ehm indebolire il sostegno per l'Ucraina ehm nei paesi dell'Unione Europea anche negli Stati Uniti e abbiamo visto che con le nuove forze ehm ha iniziato eh di farlo dopo l'invasione del eh ventiquattro febbraio. Eh se nel primo periodo diciamo in primi prime settimane mesi dopo l'invasione si è parlato molto anche negli eventi in quali ho partecipato che la Russia e la disinformazione russa è largamente allargamente fallito non ha non è riuscito a raggiungere questo obiettivo ehm almeno diciamo nei eh se parliamo dei paesi occidentali eh la situazione è cambiata eh la situazione è diversa se parliamo di paesi del eh sud globale. Adesso per esempio la Russia ehm ha lanciato una campagna massiccia di disinformazione via social ma anche tra tra i suoi eh media di propaganda tramite i suoi ufficiali ehm incolpando l'Ucraina per eh la crisi alimentare eh scordando di eh eh riferire che è proprio la causa di questa crisi è il blocco eh navale russo dei porti ucraini che impedisce alle navi ucraine di uscire dai porti ed esportare il grano nei paesi che ne hanno bisogno. Eh e quindi possiamo ehm aspettare ehm se devo fare diciamo una una previsione per il futuro possiamo aspettare di più di questo tipo di disinformazione ehm incolpare l'Ucraina per la crisi alimentare per eh l'aumento dei prezzi per l'aumento di inflazione anche nei paesi occidentali cioè è una tattica usata eh da anni eh dalla Russia che eh conosce molto bene diciamo il contesto locale di vari paesi e adegua la disinformazione e la propaganda a seconda di ehm del del pubblico al quale al quale si riferisce quindi giocano molto su ehm su problemi sulle preoccupazioni di eh paesi singoli o di regioni eh singole e l'Italia non è non è l'eccezione quindi ehm chiudo dicendo che eh comunque facendovi di nuovo complimenti per il gran lavoro che avete svolto ehm dando anche la mia disponibilità di rispondere alle domande eventuali che ci potrebbero essere. Grazie Olga, grazie per la tua importante testimonianza e adesso passo subito la parola a Oles Rodeschi, presidente dell'Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia. Buonasera a tutti eh cercherò di essere breve eh perché la maggior parte delle cose che pensavo di dire già sono state dette. Prima di tutto volevo ringraziare l'organizzatore di questo evento e le autori mh di questa ricerca che secondo me è molto importante eh perché la disinformazione russa ehm è un'arma e non meno pericolosa eh di un caro armato. Eh mi piace molto ricordare un paragone eh che usa sempre Mauro Guerzio un esperto sulla disinformazione che dice che bisogna vedere quanto costa un tank, un caro armato e quanto costa eh prendere so cinque dieci persone che scrivono post su social o scrivono pezzi su siti di disinformazione palese e quindi stipendiarli per quanto tempo. E un'altra domanda cosa è più efficace? Un caro armato vita il quale può durare anche un giorno o due e questo esercito di delle persone dietro tastiera che non fanno altro che diffondere le disinformazioni. La disinformazione russa in Italia eh abbiamo visto che è stata si è basata molto su alcune alcune questioni prima di tutto per mettere in dubbio la responsabilità unilaterale di Putin per iniziare questa guerra e quindi qualcuno ha cominciato a dire che eh la Nato che ha abbaiato troppo alle porte che sì è da condannare però c'è sempre un però che poi eh diventa insostenibile perché cerca appunto di di legittimizzare le ragioni che non possono essere difesi quelli di Putin. ehm per esempio un'altra cosa sulla oltre alla Nato è Ucraina nazista cioè un è una cosa assolutamente assurda perché eh in Ucraina il nazismo cioè io posso ammettere come ucraino il problema della corruzione il problema magari in alcuni casi eh dello stato di diritto eh che purtroppo abbiamo avuto ma non certo il problema del nazismo del fascismo però questa cosa che è nata nel eh duemilaquattordici portata avanti appunto dal Cremlino gonfiando in tante in tanti eh in tante situazioni i personaggi anche non esistenti e le organizzazioni non esistenti o talmente poche che non 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 fanno nessuna differenza e creando questo mito eh sia per audience interno del paese cioè però per propri ehm elettori sia per ehm per l'esterno e qui come ha detto Olga giustamente ehm sono stati molto bravi propagandisti russi ad usare linguaggio addomesticato per ogni paese Italia compresa eh io stesso sono diventato dopo magari non so le le manifestazioni che abbiamo organizzato quasi due o tre volte alla settimana eh alcuni interventi dichiarazioni sono stato diciamo mirato da dalla propaganda eh ormai sono diventato nazista fascista cioè fa ridere ovviamente per però eh dopo vent'anni in Italia eh però se qualcuno c'è legge su internet non conoscendo la realtà eh comincia a credere e se questa cosa viene moltiplicata e abbiamo visto perché mi sono messo a studiare come da dove parte questa disinformazione cioè viene proprio moltiplicata da molti account eh falsi che non esistono che non fanno altro che eh diffondere questa informazione. È molto importante mh sottolineare tre questioni mh che vengono mh diciamo pubblicizzati in Italia ora da da amici o sostenitori di Putin. Cioè prima cosa noi siamo per la pace non mandate le armi perché non si può raggiungere le armi eh la pace con le armi. Seconda cosa ma le sanzioni fanno male a noi e non fanno male a Putin. E terza cosa appunto eh la colpa è di Zelensky perché non vuole eh non vuole la pace lui. Cioè sono tre cose ehm veramente eh assurde se uno va a vedere in fondo però che vengono cioè che vengono propagandate che vengono diffuse in Italia. E faccio un esempio eh altro giorno sono stato in un programma un buon programma di informazione dove c'era un giornalista di un giornale molto importante in Italia che sosteneva che le sanzioni sull'oro russo è una cosa quasi falsa perché non faranno male a alla Russia in quanto importatori del loro russo sono la Cina, India e la Turchia. E lo diceva come esperto eh in economia e finanza e quando uno va a fare un più banale controllo sull'internet sul sito del Ministero di Economia russo scopre che la maggior la maggiore acquirente dell'oro russo è Londra con quindici miliardi di euro e e quindi una una sanzione applicata su questo campo fa male almeno quindici miliardi eh di dollari. Quindi però questa tesi che sanzioni non funzionano appunto è stata passata così cioè non non so le motivazioni non so se si tratta di ignoranza o di disinformazione fatta apposta però come esempio appunto funziona. Devo dire che Putin non è stato primo a inventare a inventare questa disinformazione e qui volevo citare un caso eh poco conosciuto in Italia eh quando eh l'Unione Sovietica ha avuto difficoltà con con la diaspora ucraina all'estero e con la diaspora ebraica all'estero perché li facevano male eh negli anni settanta eh facevano una lotta importante contro eh l'Unione Sovietica e quindi l'Unione Sovietica ha deciso di eh eh iniziare una guerra interna fra questi gruppi producendo addirittura volantini ehm prendendo cioè incaricando le persone i residenti della del controspionaggio russo per esempio a New York c'era un'organizzazione eh guidata da Mike Hanusiak e si chiamava organizzazione l'Unione dei Ucraini Sovietici qualcosa del genere o Ucraini Comunisti che tramite questa organizzazione eh il KGB cioè ha introdotto in Stati Uniti dei volantini e dei cosiddetti dossier dei sull'Ucraini antisemiti e il ruolo di questo Michael era di diventare portavoce di dire che lui è autore di queste di queste libricini di questi libricini e diffonderli negli ambienti eh ebraici della comunità ebraica e alcune cose eh hanno funzionato molto veramente forte e ora abbiamo c'è uno storico ucraino che si chiama Volodymyr Vyatrovich ora fa il parlamentare e lui ha scoperto questi documenti eh io sono stato autore di un articolo su questo caso su Ucrainska Prauda che fa vedere proprio manualmente come funzionava la propaganda per far diventare eh ucraini antisemiti e viceversa gli ebrei dovevano essere messi nella chiave anti-Ucraina e purtroppo funziona anche ora questa questa favola e ultima cosa su eh certo che non sono questi non sono tutti i giornalisti le spie russe però eh ci sono casi veramente eh importanti eh che ora abbiamo scoperto occupandosi del grano eh che il vice presidente vice direttore della FAO cioè la struttura più importante che si dovrebbe occupare della sicurezza alimentare nel mondo eh un certo è ex capo del protocollo di presidente Putin cioè e lui è capo regionale della FAO che si occupa dell'Europa e l'Asia centrale vogliamo che questa organizzazione funzioni nel chiave antiputiniana per assicurare la sicurezza appunto scusate la ripetizione la ripetizione in chiave antiputin per assicurare eh la sicurezza alimentare è impossibile perché viene guidata da uno stretto collaboratore di Vladimir Putin io mi fermo qui anche se volevo dire altre cose grazie mille un lavoro eh molto importante e molto importante anche il dibattito che secondo me dovrebbe essere diffuso anche un po' su giornali e sulle tv italiane grazie grazie Oles ed è quello che tutti ci auspichiamo noi siamo in chiusura e in realtà abbiamo sforato di non poco l'orario che abbiamo previsto per la chiusura purtroppo eh lì a Quartapelle Riccardo domani non ci hanno potuto raggiungere perché sono bloccati con i lavori in commissione e mh e quindi eh chiudiamo qui questa conferenza non so se ci sono delle domande magari possiamo sì prego sì buonasera una breve domanda eh grazie per questa iniziativa è molto lodevole appunto fare informazione sulla disinformazione sulle campagne di disinformazione sulle operazioni di disinformazione ma la mia domanda è al legislatore ehm in qualche maniera come si può immaginare in qualche maniera di non soltanto denunciare e da questo punto di vista i giornalisti hanno una grande responsabilità molte volte anche con un grande cinismo per poter per voler fare dell'audience anche su sulla pelle appunto delle vittime ucraine però la domanda è al legislatore perché come rispondere a questa diffusione ehm di bugie ehm ovviamente io come l'ho sentito dal mio accento sono di Giuseppe di Liberazione vengo da Francia e prenderò l'esempio da Francia non per dire che con tutto quello che si fa in Francia va bene e penso che ci sono anche da su questo tema e sulla disinformazione anche dei punti eh molto critici eh su quello che succede eh rispetto all'Ucraina e dunque lontano da me l'idea di ehm di dire di prendere esempio sulla Francia tuttavia c'è un'organizzazione eh che una volta si chiamava il Consiglio Superiore di Audiovisivo che può intervenire con delle sanzioni finanziarie anche con delle sospensioni delle eh delle delle autorizzazioni a emettere eh se ci sono dei eh palesi mancamenti a delle e a delle eh a degli impegni presi dalle televisioni eh per essere molto eh concreto una intervista al ministro Lavrov così in diretta senza filtro eh non sarebbe stata possibile senza sanzioni e dunque la domanda è e io mi spiace farlo al a uno dei legislatori che appunto è molto sensibile a questo tema però eh eh è lui in presenza e dunque mi permetto di farla se posso se ti ringrazio Enrico per la domanda che trovo molto appropriata e molto giusta e ti rispondo molto volentieri o in questi diciamo le le soluzioni sono tre tipi uno ha fatto volutamente riferimento in apertura al codice di condotta sulla disinformazione approvata dalla Commissione europea perché c'è un contesto europeo nel quale si svolge come dire la partita contro la disinformazione per questo ritengo molto importante la nuova versione più rafforzata del codice di condotta perché contiene delle indicazioni ho fatto riferimento al divieto tra l'altro concordato con i soggetti la gran parte dei soggetti diciamo le compagnie che si occupano di comunicazione social il divieto di monetizzare la circolazione delle fake news ed è un esempio poi c'è una questione e tu facevi riferimento al caso francese che riguarda la dimensione nazionale su cui i binari sono due uno riguarda la televisione pubblica quindi il ruolo della Commissione di Vigilanza RAI tra l'altro di cui sono membro insieme ad altri colleghi e c'è una discussione all'interno della Commissione di Vigilanza RAI che fa riferimento al contratto di servizio noi sappiamo che la RAI lavora sulla base di un contratto di servizio stipulato col Ministero col MEF e nel contratto di servizio tra i principi che devono ispirare il servizio pubblico radio televisivo non c'è soltanto la trasparenza la correttezza rispetto al pluralismo ma c'è un elemento in più che riguarda proprio il servizio pubblico radio televisivo che è il valore della responsabilità non si dice non ricordo esattamente la frase ma si dice che la RAI il servizio pubblico radio televisivo rispetto a le televisioni private deve essere ispirata ad un criterio di maggiore responsabilità io mi viene da dire noi del PD mi dispiace fare un riferimento ad un partito ma sono qua come legislatore del PD abbiamo più volte sollecitato eh Fortes la governance della RAI ad essere più rigorosi sull'applicazione del criterio di responsabilità in particolare rispetto alla difformazione dell'Ucraino dicendo in sostanza se non si applica il criterio della responsabilità riguardo a una vicenda così drammatica come la guerra quando mai si applicherà da ultimo abbiamo eh non da ultimo più volte abbiamo denunciato il fatto che in programmi della televisione pubblica si facessero ricorso si facessero ricorso ad alcuni dei nomi citati per esempio da Jacopo la Friedrichson la Commissione pubblica è stato secondo noi l'abbiamo detto una pessimo episodio eh lo stesso vale per la presenza dei solo vi off pochi giorni fa a porta a porta eh è in discussione attualmente in commissione di vigilanza un documento di indirizzo sul tema dei cosiddetti opinionisti nel quale si fa dal nostro punto di vista si dovrebbe fare riferimento a appunto all'applicazione di rigorosa del criterio di responsabilità quando si ospitano opinionisti che diffondono volontariamente o involontariamente eh la disinformazione putiniana ed è una discussione in corso non è semplice perché ci sono colleghi della Commissione di vigilanza che ritengono che questo documento configurerebbe un rischio per il pluralismo quello che penso sul tema pluralismo disinformazione l'ha già detto prima c'è invece un tema e finisco il terzo punto relativo alla regolazione di questo tema sulle televisioni private compete alla Gcom che è la versione italiana dell'organismo francese che tu hai citato che è un'agenzia indipendente naturalmente eh che ha questo compito che è già intervenuta in passato eh nella stessa direzione cioè combinando delle multe eh l'ultimo esempio riguarda la pandemia a Gcom ha combinato delle multe a vado a memoria posso sbagliarmi alla sette e a media sette riguardo al modo alla modalità con cui erano state affrontati i temi della pandemia è responsabilità della Gcom di diciamo vigilare sulla modalità con cui viene trattata il tema della guerra sulle televisioni commerciali che sono comunque televisioni concessionarie cioè utilizzano una concessione pubblica e la Gcom ha questo compito. La Gcom può anche operare o autonomamente o sulla base di denunce eh che possono essere presentate da soggetti privati. Vedremo cosa succederà. Io penso che ci sia un tema relativo a questo. Tu hai citato il caso dell'intervista all'Alberto. Ci sono altri casi in cui secondo me io poi sono ospite di queste televisioni ma non ho mai avuto nessun problema a denunciare il fatto che nelle televisioni in alcune televisioni private italiane eh si faccia si si lasci circolare volontariamente o involontariamente nei termini che abbiamo questa sera descritto eh la disinformazione quotidiana. Quindi il tema italiano c'è gli strumenti ci sono per quanto compete al legislatore visto che mi hai domandato qualcosa come legislatore noi stiamo facendo il possibile con la vigilanza per quanto riguarda il servizio pubblico e la televisivo. La nostra speranza è che a Gcom accenda un faro su eh quelle che sono il trattamento della disinformazione sulle televisioni private. Posso dire una cosa a proposito di queste questioni che ponevi tu ehm avendo scritto varie volte di questa questione in Italia eh diciamo relativa al problema italiano anch'io ho ho chiesto in particolare a colleghi prevalentemente di altri paesi e e l'ho chiesto a colleghi francesi inglesi tedeschi e americani diciamo queste sono se ehm diciamo avviene qualcosa di lontanamente simile o paragonabile nelle tv o nei talk show eh di questi paesi posto che anche in Italia va fatta una differenza secondo me anche abbastanza importante tra i telegiornali e i talk show quindi diciamo c'è una sotto questione ehm e e tutte le persone con cui ho parlato generalmente i nostri colleghi eh mi hanno confermato che non esiste ed è assoluto quando io ho fatto alcuni degli esempi di cose che stavano succedendo in Italia e che non solo non esiste ma che sarebbe impossibile che esistesse e questo fa sì che diciamo la la risposta al al problema che poni tu prima ancora che diciamo un intervento o normativo o di multe di sanzionatorio eh essenzialmente una risposta culturale innanzitutto cioè eh c'è un grosso passo in avanti culturale che che l'Italia ha bisogno di fare nel nella discussione su questo e a questo punto senza infingimenti corporativi cioè senza il 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 problema da questo punto di vista è anche molto bene io ho sempre cercato di evitare proprio nei limiti del possibile di diciamo fare nomi italiani no di situazioni italiane perché il il problema non è tanto comunque non solo le persone ma appunto l'operazione quello che sta succedendo no e capire che è qualcosa che non sta succedendo in nessun'altra parte d'Europa o degli Stati Uniti secondo me questo è il il grande lavoro diciamo di massa critica che va fatto perché poi a quel punto magari si arriverà anche a una Gcom più pronta più veloce a intervenire come il consiglio dell'audiovisuale francese al limite adesso non so se se ci sono stati casi importanti di sanzioni cioè io adesso quelle che citava Andrea Romano non le ricordo però se non le ricordo evidentemente non sono state come dire delle cose che hanno lasciato il segno qualche altro intervento allora io chiuderei qui la conferenza grazie a tutti anche a chi ci ha seguito in streaming e ricordo che il report in questione sarà consultabile online sul nostro sito www.fidu.it a partire da questa sera grazie e arrivederci grazie 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 a tutti